Uno stallo molto preoccupante per la soluzione industriale per la ricollocazione di circa 50 lavoratori ex Intex, licenziati nel 2017. Un accordo di 23 pagine, infatti, tra Thales, Selenia Space, Foreigner 24 e Regione Abruzzo, prevede la rioccupazione dei lavoratori in imprese del settore. Non sappiamo oggi se per negligenza, per disattenzione, per furbizia, non sappiamo come mai queste 23 pagine non vedono in effetti atti concreti per la rioccupazione di questi lavoratori. L'interlocutore principale, che dovrebbe essere industriale principale, che è la Thales, Selenia Space, sembra essere sfuggente e a oggi questi lavoratori non hanno ancora avuto la possibilità di incontrare l'assessore alle attività produttive regionale per fare il punto della situazione. La Regione ha investito 10 milioni di euro nel settore dello spazio e questo investimento doveva servire anche a recuperare questi lavoratori. Oggi i lavoratori chiedono conto di questo investimento, visto che nessun lavoratore è stato ricollocato. Qualcuno dovrà rendere conto di quello che sta succedendo. Intanto la Intex non ha ancora pagato le spettanze ai circa 50 lavoratori, 25 dei quali hanno conciliato senza comunque ricevere nulla e altri 25 andati a sentenza con il Tribunale. Anche l'Inps, nonostante le buone intenzioni, non è riuscito a risolvere il cavillo che ha fatto sospendere ai lavoratori anche il sussidio di disoccupazione. Ad oggi, infatti, tutti i lavoratori ex Intex sono senza lavoro e senza alcun tipo di reddito.